Il mio fratello è stato un grande imprenditore, ha messo su l'azienda SvapoWeb dal nulla e adesso ha creato una serie di negozi fisici. Questo negozio ha voluto che lo gestissi io e di questo sono molto contenta e lo ringrazio. Il punto di forza di SvapoWeb sono sicuramente i prezzi ma è anche la disponibilità con i clienti, accogliere i clienti e farli sentire a casa propria. Certo è che lo Svapo in questo momento sta attraversando un bruttissimo periodo perché è stato approvato un amendamento al Senato che vieterà di fatto la vendita online delle sigarette elettroniche, tasserà all'inverosimile i liquidi per sigarette elettroniche, addirittura anche i liquidi senza nicotina. Quindi io mi rivolgo ai vostri ascoltatori e chiedo loro di firmare una petizione online contro l'emendamento Vicari che è un emendamento che ammazzerebbe assolutamente il settore. In questo negozio si possono trovare liquidi, aromi, sigarette elettroniche, accessori e è possibile anche stare in compagnia perché abbiamo anche una sala Svapo dove ci si può rilassare e chiacchierare. Grazie per la visione!